Finalmente, insomma, prima pietra possiamo dire stamattina il San Paolo. Si parte poi dal San Paolo, insomma, che è il luogo simbolo dello sport napoletano, dalla pista di atletica. Questo proprio per dare un segnale forte che l'Università di Annapoli è in campagna. Si fanno, si faranno, inauguriamo quindi il primo cantiere. Per un importo di circa 1.230.000 euro di interventi si farà la pista di atletica, ma non soltanto la pista, anche alcuni locali spogliatui, alcuni ambienti che saranno utili a quelle che saranno le attività connesse all'atletica leggera. Quindi siamo finalmente, come dire, in grado di poter dire si parte con i lavori delle università. Questa manifestazione è importante, troppo importante per questa città, per questa regione, ma io direi anche per l'intera nazione.